Ciao a tutti e bentornati a SOS Genitori. Sono Marco Catania e in questa puntata parleremo di attività che possono essere svolte in casa con i propri figli durante questo periodo di lockdown. L'idea di questo video nasce dall'osservazione di molti genitori che i propri figli trascorrono troppo tempo, in questo periodo in particolar modo, davanti ai videogames. Attenzione, lungi da me demonizzare il videogioco non è assolutamente il mio scopo né lo scopo di questo video, ma è chiaro che questo periodo di ridotti contatti sociali ha portato molti ragazzi a trascorrere un eccessivo tempo davanti ai videogiochi e quindi lo scopo di questo video è parlarvi di alcune attività che possono essere svolte in casa insieme ai propri figli per allontanarli da un tipo di strumento videoludico ed avvicinarli invece delle attività che possano lavorare sull'unione familiare e in particolar modo sullo sviluppo di competenze emotive, affettive e relazionali, dato che appunto il contesto sociale in questo periodo non ci permette di acquisirle in maniera più spontanea, più naturale, un incontro con l'altro. La prima attività di cui voglio parlarti è un'attività basata sul concetto di alfabetizzazione emotiva, cioè delle attività basate sullo sviluppo di autoconsapevolezza delle proprie emozioni e sull'acquisizione di competenze di gestione delle proprie emozioni, dove attenzione non cadiamo nel tranello comune di credere che gestire le emozioni vuol dire controllare le emozioni, ma vuol dire bensì viverle in maniera più sana, più naturale. La prima attività di cui voglio parlarti è il mimo delle emozioni, un gioco che può essere svolto con bambini di fascia della scuola primaria, salendo fino a ragazzi, adolescenti o giovani adulti, in maniera quindi indistinta, chiaramente con delle piccole modifiche. Il gioco è molto semplice, sia nella preparazione sia nell'attuazione. Basta avere dei fogliettini di carta, scrivere all'interno di questi fogliettini il nome di un'emozione, poi un partecipante pescherà casualmente uno di questi fogliettini, lo aprirà e dovrà mimare l'emozione scritta nel foglietto. Gli altri partecipanti, quindi il resto della famiglia, dovrà cercare di indovinare qual è l'emozione che viene mimata. Chiaramente, se immaginiamo questa attività con le emozioni di base, possiamo proporla a bambini più piccoli o a ragazzini. Se la fascia d'età alla quale ci stiamo rivolgendo sale, quindi se stiamo giocando con dei figli che sono magari adolescenti o giovani adulti o anche preadolescenti, potrebbe essere un po' troppo banale, un po' troppo semplice. Allora in questo caso possiamo aggiungere un grado di difficoltà, aumentando il numero di emozioni contenute all'interno dei foglietti o lavorando sull'intensità delle emozioni. Ad esempio, è facile pensare di mimare la gioia, ma se tra i foglietti inseriamo gioia, felicità, estasi, stiamo parlando di tre livelli diversi dell'emozione e lì la situazione si complica particolarmente, non solo per i ragazzi, ma sono sicuro anche per molti adulti, così come la differenza tra la rabbia, l'ira e la collera, che sono appunto frequenze diverse dalle stesse emozioni e questo quindi renderà il gioco sicuramente più appetibile anche a una fascia d'età un po' più grande, un po' più adulta. Una seconda attività simile, anche questa che rientra a far parte della categoria dell'alfabetizzazione emotiva, potremmo chiamarla il racconto delle emozioni. In questo caso si scelgono casualmente un'emozione ed una situazione. Uno dei partecipanti del gioco dovrà raccontare una storia dove il personaggio che non è se stesso, quindi in terza persona, questo personaggio affronta la situazione che abbiamo pescato casualmente aprendo un libro a caso ad esempio e selezionando una parola e deve vivere una o più emozioni all'interno della sua storia affrontando le sue vicissitudini. Alla fine del gioco i coloro che ascolteranno, quindi il resto della famiglia, attribuirà un punteggio alla storia non sulla bellezza della storia, non su quanto è stata creativa la storia, ma basata su quanto il narratore è riuscito a far sentire quelle emozioni a coloro che stavano ascoltando. Quindi una versione molto più teatrale rispetto al mimo e che prevede un coinvolgimento molto più attivo del narratore. Attenzione, ribadisco un punto, il narratore non deve raccontare una sua storia, deve inventare una storia. Poi è chiaro che nel momento in cui andrà a parlare di come il protagonista o la protagonista sta affrontando le sue vicissitudini, le sue difficoltà, andrà a proiettare qualcosa di sé nella storia, ma quello è un altro paio di maniche. Se vogliamo rendere questa attività più complessa, possiamo aggiungere più situazioni o più emozioni da far affrontare o da vivere durante la stessa storia. Mentre se vogliamo andare a lavorare su dei contenuti più scolastici, quindi su delle attività che non sono basate sull'alfabetizzazione emotiva, ma sul consolidamento di alcune competenze scolastiche, e quindi ci stiamo rivolgendo più facilmente a bambini più piccoli, quindi di fascia della scuola primaria, ad esempio, o addirittura del prescolare, potremmo lavorare su delle attività che puntano a sviluppare delle competenze metafonologiche. Una di queste molto, molto semplice è quella di scandire le parole, mentre si parla col figlio, con la figlia, col bambino o con la bambina, battendo le mani ad ogni suono, ad ogni fonema. Ad esempio, C-I-A-O-M-A-M-M-A. Questo non è un gioco vero e proprio, cioè non è un'attività che va pensata come un momento in cui la famiglia si riunisce e giochiamo tutti insieme battendo le mani, perché è chiaro che non sarebbe molto allettante, molto appetibile come attività. È più un piccolo interscambio giocoso che può essere svolto con bambini, ripeto, in fascia prescolare o dei primi anni della scuola primaria, per consolidare alcune competenze metafonologiche, per creare dei brevi momenti di scambio che puntano anche a questo. Attenzione, è chiaro che il genitore si rivolgerà in questo modo dal bambino e il bambino o la bambina risponderà allo stesso modo. Non entriamo troppo nel dettaglio su cosa siano le competenze metafonologiche o come questa attività le vada a potenziare. Magari troveremo uno spazio adeguato a questo argomento in un altro contesto, in qualche altro video. Ovviamente, queste attività di cui abbiamo parlato, quindi tanto quelle di alfabetizzazione emotiva, tanto questa di consolidamento delle competenze metafonologiche, sono solo piccole gocce nell'oceano, esistono un'infinità di attività, sia per quanto riguarda l'alfabetizzazione emotiva, sia per quanto riguarda il consolidamento delle competenze scolastiche. Quindi, se ti va che questo argomento venga approfondito maggiormente, fammelo sapere nei commenti, scrivimi se hai dei dubbi su queste attività, su come potrebbero essere implementate, eccetera, risponderò al prima possibile ai commenti e cercherò di capire anche se indirizzare i prossimi video verso un ampliamento di alcune tematiche o di altre. Come sempre io ti invito a condividere questo video, a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutte le novità dei video di tecnica della scuola e a mettere un bel mi piace. Ma prima di lasciarci ti faccio vedere due immagini relative ad altre attività che possono essere svolte con bambini per potenziare le competenze scolastiche o per consolidare delle competenze scolastiche. Non credo che le immagini che stai vedendo in questo momento richiedano particolari spiegazioni. Sono attività molto semplici da realizzare, si basano sull'idea di riciclo e possono essere utilizzate per creare giochi che, appunto, come dicevo in questo caso, semplicemente tramite mezza bottiglia e dei tappi possono essere utilizzate per potenziare delle competenze, delle conoscenze che il bambino ha acquisito in campo scolastico. Nelle immagini che vedi hai un gioco basato sulla divisione dei nomi e verbi oppure un altro sulla divisione in are, ere, ire. Ma con la stessa logica puoi creare un'infinità di attività e di giochi diversi. Ad esempio puoi fare la differenza tra numeri pari o numeri dispari. Oppure nella storia puoi selezionare attività prima e dopo di Cristo o ancora delle moltiplicazioni con i barattoli giusto e sbagliato. Qua l'unico limite rimane la tua fantasia perché davvero puoi creare un'infinità di attività sullo stesso schema di base, sulla stessa logica. Importante però è ricordare che tutte queste attività nascono come dei giochi, come delle attività ludiche, non come dei momenti in cui mi siedo con mio figlio o mia figlia e impongo il gioco, impongo l'attività, impongo che vada fatto in un certo modo e che si abbia un certo risultato. Sono giochi, lo scopo è divertirsi insieme, quindi sviluppare un concetto di piacere in quell'attività e se si sbaglia pazienza, si ride dell'errore e si impara da quello perché l'errore, ricordiamocelo purtroppo è un concetto spesso dimenticato, l'errore è il presupposto fondamentale dell'apprendimento, senza quello non possiamo imparare o se non sbagliassimo mai non avremmo bisogno della scuola o di imparare maggiormente. Quindi su questa io vi saluto, vi ricordo come detto poco anzi di mettere mi piace al video, di condividerlo così altri genitori potranno scoprire queste attività e ci vediamo il prossimo venerdì con un'altra puntata di SOS Genitori. Ciao!